Il tema dei servizi associati dell'Unione dei Comuni è sicuramente un tema all'avanguardia, è un tema attuale. C'è una legge nazionale e un'applicazione che deve fare la Regione Veneto. Allora da questo punto di vista il primo auspicio è questo. In Regione Veneto per la montagna ci sono due leggi che parlano, proposte di leggere, parlano in questa maniera. Le due leggi devono comunque parlarsi fra di loro perché una dice cose diverse dall'altra. Quindi la proposta di legge 196 deve unirsi o comunque collaborare, gli uffici devono collaborare con quello che sta facendo l'Unione Montane. Perché è chiaro che l'Unione Montane in provincia vengono fatte a livello di comunità montane, quindi cose diverse da quella che è la legge 196. È chiaro che con questi obiettivi i comuni devono per forza di cose iniziare a fare un percorso o percorso di parlarsi assieme, i comuni confinanti, comuni che in pratica possono collaborare assieme a livello di zona omogenea o a livello di comunità montana, se le comunità montane sono grandi e indicare alcune zone omogenee che possono comunque collaborare con la comunità per convenzioni anche di gestione di servizi associati. Quello è il percorso che deve comunque essere fatto. È un percorso che personalmente mi affascina e sono anche a disposizione per dare il mio contributo per arrivare a una prospettiva positiva per i comuni in questo settore. Oggi abbiamo messo in evidenza anche il discorso del patto di stabilità per i comuni da 1.000 a 5.000 abitanti. È assodato che il risparmio e quelli che sono i vantaggi economici per lo Stato sono molto limitati, anzi sono zero. Invece ci sarà uno svantaggio per i comuni ma soprattutto per le aziende che devono eseguire dei lavori, che devono essere pagati e che si fa con norme assurde a non pagare o non eseguire lavori in tempi di recessione economica come questi. Quindi l'auspicio, e guardo al Ministro Giarda e anche all'Anci Veneto, di organizzare un convegno su questo tema proprio con lo stesso Ministro. Per fare in modo, lui lo ha già detto l'anno scorso, in convegni che ha fatto e anche in studi che ha fatto, che questo settore dei comuni da quel punto di vista di raggiungere l'obiettivo del risparmio economico per lo Stato non c'è. Quindi cercheremo di fare in modo, e do anche in carico all'Anci, di organizzare un incontro proprio col Ministro Giarda per fare in modo che queste cose non vengano applicate nel prossimo anno e anche negli anni futuri.